L'estate alle porte, molti hanno programmato delle vacanze a bordo di navi da crociera. Ci sono delle patologie per le quali è sconsigliabile scegliere una vacanza di questo tipo? Le patologie che ovviamente sconsigliano un attraversamento dei mari su una nave da crociera sono tutte quelle che possono rapidamente degenerare in una fase acuta. Cioè un paziente instabile dovrebbe evitare di imbarcare. Anche perché il medico di bordo è normalmente un tuttologo. Cioè è un medico, tra virgolette, di famiglia che ha delle esperienze in pratiche d'urgenza. Io per esempio tra le mie specializzazioni ho quella in oftalmologia. Per cui tutto quello che è chirurgia d'urgenza in ambito oculare per me è semplice. Ma una ferita corneale trattata da un medico non oculista ovviamente diventa un problema farla a bordo. Quindi tutto ciò che può degenerare, tutto ciò che è instabile, un'angina instabile, una febbre, un qualcosa, sconsiglia l'imbarco. Anche perché anche la farmacia di bordo ha molti farmaci normalmente, ma non li ha tutti. Ecco quindi che nelle regole d'ingaggio, cioè nelle condizioni contrattuali, se uno se le legge, c'è scritto che i farmaci è opportuno che i vari pazienti se li portino dietro. E poi se per esempio una donna è incinta negli ultimi mesi, nelle ultime settimane di gravidanza, è opportuno che non imbarchi perché potrebbe effettivamente partorire a bordo e magari è una gravidanza complicata che non si può gestire a bordo. Per quanto riguarda invece i bambini ci sono delle restrizioni o dei consigli? Se sono in buona salute non ci sono restrizioni. Ovviamente a bordo è molto sentita la componente igienica, ci sono delle piscine, delle cose, ma ci sono delle figure professionali deputate ad evitare infezioni dilaganti tra l'equipaggio e i passeggeri. Indubbiamente i bambini devono essere sorvegliati perché come si suol dire spesso si fanno male, quindi sono soggetti più degli adulti ai traumi e sarebbe bene che questi non avvengano a bordo di una nave da crociera. Quali sono i farmaci che quindi in valigia non dovrebbero mai mancare? Oltre quelli di eventuali terapie croniche che il paziente assume, sicuramente qualche antibiotico, quindi un macrolide, un'associazione a moxicillina, acido clavulonico, degli antipiretici, degli antidolorifici e poi ovviamente qualche pomata antibiotico-cortisonica per eventuali lesioni cutanee. Poi ripeto, il resto sta a bordo anche perché dobbiamo considerare che il farmaco dovrebbe sempre essere consigliato da un medico. L'automedicazione spesso fa più danni che non vantaggi. L'automedicazione spesso fa più danni che non vantaggi.